Massimo Niero, il sindaco di Cisano sul Neva, siamo qua di fronte al comune dove è stato allestito la pianta stabile dei vigili del fuoco, l'UCL, l'unità UCL per le ricerche, per coordinare le ricerche, ma riassumiamo un secondo qual è la situazione? La situazione è abbastanza chiara, qua è stato setacciato praticamente tutto il territorio, da ieri pomeriggio, ieri sera comprese, qua non si è neanche andati a dormire, è il terzo turno che fanno i vigili del fuoco, la nostra protezione civile, ancora ieri sera abbiamo praticamente setacciato veramente tutto il territorio, è ovvio che dopo così tante ore questa persona potrebbe essere realmente ovunque, però noi non dobbiamo mollare la guardia, dobbiamo continuare, abbiamo diversi gruppi cinofili che stanno setacciando il territorio qua e in più sono andati anche ad Albenga dove pare sia stata vista ieri mattina intorno alle 8. Stiamo cercando di non tralasciare nessuna pista, di provare a vedere tutte le soluzioni, è ovvio che ci sono realmente tanti sentieri, tante strade qua, poi lo sappiamo il territorio è presto fatto, basta guardarsi intorno, in 5 minuti a piedi sei in mezzo a un bosco, in 3 minuti sei sul ciglio del fiume, è realmente difficile ma non molliamo e cerchiamo di andare avanti. Ora aspettiamo di coordinarci con la prefettura per capire come andremo avanti, noi abbiamo fortunatamente una risorsa infinita che è quella della protezione civile, che ovviamente anche dei ragazzi dei vigili del fuoco perché sono straordinari, però c'è sempre un bel segnale che si lancia da tutti i comuni limitrofi, veramente tante persone, i nostri che ieri sera sono venuti qua dalle 10 fino a questa mattina alle 6, ininterrottamente con torce in giro per tutti i terreni, abbiamo cercato di non tralasciare niente, è ovvio che di notte è molto difficile, adesso si può più accuratamente guardare realmente tutti i rivoli, tutti i sentieri, i bei che sono veramente una cosa infinita. Tu hai sentito anche la famiglia, come sono, come stanno, che cosa dicono? La famiglia l'abbiamo sentita perché praticamente il figlio ha passato la nottata qua con noi in comune e a girare con noi, è ovvio adesso sono realmente preoccupati, all'inizio sembrava una cosa che capita spesso da queste parti, che magari si faccia tardi o magari in giro ci si possa distrarre a essere in mezzo a un bosco, però ci si è accorti che poi la cosa era molto più seria, è ovvio che sono preoccupati, adesso gli abbiamo detto di andarsi a riposare un pochettino, che ci sono realmente tante risorse in campo che possono essere sicuramente più utili perché anche più attrezzate, più esperte e tutto, confidiamo veramente in loro perché questa situazione volga al meglio. Le ricerche sono state stese anche nei comuni limitrofi, abbiamo detto, chiudiamo con un appello a chiunque dovesse averla vista, naturalmente di chiamare il 112. Beh, assolutamente sì, l'abbiamo già fatto attraverso voi, attraverso i giornali, attraverso ovviamente la prefettura, i carabinieri e tutto, chiunque possa averla vista, anche comunque qualche cosa di verosimile, di somigliante e tutto, meglio fare una telefonata più che una in meno perché ci può aiutare, perché questa persona realmente in questo momento potrebbe essere veramente ovunque, potrebbe aver preso un treno, un pullman, essere in qualsiasi posto, di fare attenzione, di dare ovviamente notizie ai comandi dei carabinieri, alla prefettura, a qualsiasi persona che ci possa dare delle indicazioni che ci possano aiutare. Noi ci siamo, ci saremo finché ovviamente non volgerà al meglio questa situazione, noi presidiamo assolutamente tutto il territorio.